Dal 2007 l'Africa Chiama è impegnata nella baracopoli di Kenyama, la più grande capitale dello Zambia, che conta oltre 350.000 abitanti, senza dubbio l'area più degradata di tutta l'Usaka, dove i pochissimi servizi sanitari ed educativi non rispondono neanche parzialmente ai bisogni della popolazione locale. Proprio qui la Presidente Anita Manti ed Emanuele Iovenitti, socio e volontario dell'organizzazione, sono tornati ancora una volta per dare un supporto alle persone in difficoltà. Un viaggio di nove giorni che fa seguito al container della solidarietà, partito da Fanno la scorsa estate, con attrezzature e materiale di arredo destinati al centro di maternità realizzato dall'associazione. Sono stata proprio pochissimi giorni fa in Zambia e precisamente all'Usaka, dove l'Africa Chiama è già presente da tanti anni, con diversi progetti sia sul settore dell'istruzione, alimentazione, ma anche sanitario. E proprio su questo settore l'Africa Chiama negli ultimi anni si è impegnata tantissimo nella realizzazione di un nuovo centro di maternità. Nasce appunto da un percorso che l'Africa Chiama ha fatto in questi anni nella prevenzione delle disabilità. E proprio le cause della disabilità nascono soprattutto e sono fortemente legate al momento del parto. E quindi a Caniama attualmente l'ospedale governativo è molto piccolo e ha soltanto otto posti letto. E in questi anni l'Africa Chiama si è impegnata nella raccolta fondi per la realizzazione di un centro di maternità che raddoppierà i posti letto, arrivando quindi a ben 16 posti. L'ultimo mio viaggio in Zambia, ricordato Anita, risale a tre anni fa in occasione della posa della prima pietra dell'ospedale. Poi gli eventi della pandemia hanno rallentato le nostre attività, ma non le hanno fermate, anzi. Oggi possiamo essere, come dire, orgogliosi di aver completato la struttura esternamente, murature e quant'altro, ma anche nell'allestimento con tutte le strutture biomedicali che sono in parte state donate anche dai nostri donatori locali, ospedali, medici e le abbiamo inviate appunto con questo container. Si attende l'inaugurazione ufficiale, però intanto vengono eseguite delle visite? Assolutamente sì, l'attività di screening prenatale è ormai avviata da diverso tempo e l'inaugurazione ci auguriamo di farla veramente entro poche settimane. In questo viaggio ho avuto la possibilità di parlare direttamente con i responsabili del Ministero della Salute, ho incontrato le istituzioni locali, che si sono impegnati fortemente nell'invio, come negli accordi iniziali, del personale sanitario. Questo consentirà quindi una sostenibilità del nostro progetto a lungo termine. E com'è possibile sostenere appunto questo progetto attraverso l'Africa Chiama? La campagna che stiamo portando avanti in questo periodo si chiama appunto Mille Giorni di Vita. È una campagna dedicata alla salute materno-infantile, quindi garantire una prevenzione alle mamme durante la gravidanza, ma anche le cure mediche nei bambini nei primi appunto mille giorni di vita. E siamo anche vicino alla festa della mamma, quindi sicuramente l'Africa Chiama sta proponendo un regalo solidale che andrà a sostegno di questo progetto. Da questo viaggio mi porto con me il desiderio di tutte le donne di Kaniama di poter far nascere i propri bambini in un ambiente sano, sicuro, ma anche bello.